Musica Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle 7 I nostri gamberetti sono pronti per l'esordio in campionato Raga, esordio della seconda stagione, seconda in League One Quest'anno dobbiamo per forza puntare alla promozione Non so se sarà promozione diretta o pre-off Ma in qualche mania dobbiamo salire deglassifica Detto questo, ragazzoli, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti Per i suggerimenti e per il supporto che state dando a dare da questa serie Nel tentativo di riuscire a conquistare qualcosa, ma non ci riusciremo mai Vi ricordo di iscrivermi sui social, mi trovate come Maullo941 Sia su Facebook che su Instagram, comunque il link è in descrizione E se volete sostenere il canale potete farlo attraverso delle piccole donazioni Link anche questo in descrizione Detto questo, partiamo con il video Ok ragazzoli, allora abbiamo la prima partita con del Breffford Abbiamo del... mail... wielding, l'abbiamo accettata questa? Sì, wielding che vuole parlare, vuole giocare Ma ti abbiamo venduto wielding, quindi non rompere le scatole Hamilton vuole giocare titolare, ci penseremo Hamilton mio, tu ora stai iniziando a pretendere un poco troppo Allora, vediamo un attimino la formazione, raga Morris Naga, Naga lo facciamo uscire per Claudio Giochiamo con Claudio, raga mi piace chiamarlo Claudio Ha un nome pronunciabile, Clavigio Clavigio, lo chiamiamo Claudio è ancora meglio Sulla destra giochiamo con... o Sullivan, perché sennò si arrabbia A centrocampo Mariani e Raid, mi sembra che siano i nostri migliori Sì, perché wielding l'abbiamo venduto, va bene Mariani e Raid, sulla sinistra Nicholson, Mitchell va bene lì Salazar e... vabbè dai, posto di punto facciamo giocare Hamilton Vuole giocare, diamo la possibilità Sulla destra Raid e abbiamo Droll Droll, che razza di nome abbiamo presa, raga Droll, che comunque è un 62, più forte e promette meglio In panchina di riportarci, invece del The Rock e dei Poveri ci portiamo Ehm... dove sta? Ah, Naga già è qua, ok Allora, Casadei, Harwood, Linsei Poi vediamo un attimino Ehm... Vaz Vaz ce la portiamo pure al posto di... no, Vaz non ce la portiamo Ehm... mi servirebbe magari un altro... non abbiamo centrocampista Ah, tutte abbiamo Tutte, va bene, portiamoci tutte Ehm... è meglio un centrocampista in più che può aiutarci a coprire Andiamo alla prima partita, raga, contro il Bradford Questi sono i nostri 11 titolari, raga Dobbiamo partire col piede giusto, speriamo Siamo fuori casa, fuori casa Prima partita fuori casa Esordio dei Camberetti in questa terza stagione Contro il Bradford Che c'è famo? Ai 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 4 a 0 prendi e porta a casa parte e mail cosa sono raga allora secondo squadra gomes venduto perfetto poi voglio dire che sono un po preoccupato sul mio le chiedo un'altra possibilità dai harwood mister c'è una stagione lunga raga ci sarà posto per tutti aggiornamento dell'osservatore o chi ci ha portato dall'argentina bruno urtato 60 84 basta portiere non ne posso più alvaro duarte 66 88 no dall'argentina non è arrivato niente di interessante andiamo avanti con il calendario raga andiamo avanti nel calendario wilding venduto o perfetto facciamo spazio del rosa raga facciamo spazio del rosa aggiornamento pensieri dell'osservatore è arrivato l'altro osservatore ora andiamo a vedere arriviamo alla prossima partita arriviamo alla prossima partita e poi vediamo cosa ci porta l'altro osservatore mister raid cosa vuole raid aggiornamento dell'osservatore wilding venduto ok l'osservatore chi ci porta dal camerun secu di or 67 93 non è male non è male lo teniamo sotto d'occhio seidu amponsa 79 94 il baffetto d'acciaio questo ce lo portiamo subito dentro amidu andri 53 71 no amidu amponsa 65 87 no ci teniamo questo secu secu di or lo continuiamo a osservare lo continuiamo a osservare poi vediamo un attimino qui chi che parla mister stesso che stessa cercando un sostituto raid e tu sei il nostro titolare quale sostituto quando vabbè niente pur di parlare si inventano le peggio cretinate praticamente vediamo quel quel camerunense che abbiamo trovato raga che secondo me promette molto bene seidu ampadun cdc 79 94 un 63 porca miseria se promette bene abbiamo una lista di giovani che infinita raga abbiamo una lista di giovani che infinita dobbiamo iniziare a fare un attimo una cernita ben inizia a fare un attimino una cernita però va bene partita contro l'ul city allora arwood dell'altra volta si è lamentato che gioca poco quindi abbiamo detto che ci penseremo quindi mandiamo in campo arwood leviamo mitch e le facciamo giocare l'inze così non si lamentano nessuno facciamo uscire nicolson se non sbaglio è infatti esposito e il sostituto quindi però l'esposito può stare lì e osallivan va bene giochiamo così raga giochiamo così giochiamo così casa te ce l'abbiamo in panchina quindi è pronto a subentare a osallivan dai e raga portiamo contro l'ul city contro l'ul city seconda partita di campionato esordio in casa loro vengono un pareggio contro il colchester esordi in casa per i gamberetti che ci fa 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.